Cesni Ancora da gatti Quadrado Di Maria Alexandro Palla lunga di Alexandro a servire Vlaovic che non controlla E sfuma questa azione potenzialmente interessante per la Juve Cataldi Luis Alberto in mezzo a due Cataldi poi Rabiot, Fagioli Perde il rimpallo con Casale Luis Alberto ancora Cataldi Milinkovic-Savic allarga bene il gioco per Felipe Anderson Che può puntare Alexandro Uno contro uno Felipe Anderson prova ad andare sul fondo Ci va parte il traversone Luis Alberto Tacco illuminante per Zaccagni Lazio in vantaggio Al cinquantatresimo Splendida la ripartenza dei biancocelesti Zaccagni esulta con i suoi tifosi Ma tutti vanno ad abbracciare Luis Alberto Un colpo di genio del numero dieci Che libera Zaccagni Gadalino sbaglia Lazio due Juventus uno Cinquantatquattresimo Sono dieci in campionato per Zaccagni Che raggiunge Come chiestogli da Maurizio Sarri La doppia cifra In una delle partite più importanti della stagione E poi doveroso ringraziamento a Luis Alberto Un gol bellissimo Ma guardate come viene rifinita questa azione Mamma mia Eccolo il ruggito dell'Olimpico per il gol del vantaggio della Lazio Splendida intuizione Colpo di genio di Luis Alberto Che libera così il compagno in maglia 20 Eccolo il compagno in maglia 20 Eccolo il compagno in maglia 20 Eccolo il compagno in maglia 20